Abbiamo esaminato molte questioni, dai rapporti con il vicinato meridionale alle relazioni economiche ed energetiche. Vorrei però partire dalla cerimonia di qualche minuto fa con la quale abbiamo effettuato lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, un passaggio che ne sancisce l'entrata in vigore sul piano internazionale. Si tratta di un grande successo per i nostri due Paesi e di un avvenimento significativo per la cooperazione nel Mediterraneo che ci auguriamo potrà rappresentare un modello per il futuro.